Giampiero, buongiorno. Buongiorno. Due cappuccini. Allora, come è bene? A fine settimana un bel 3 a 3. Anche l'anno scorso 3 a 3 con Siracusa. Non riesco a vincere, ma non ce n'è che a perdere. Un buon punto assolutamente, siamo andati vicini. Però non ci si ferma, non ci si ferma più perché adesso c'è l'intervento con i maschi, via subito con le ragazze in Serie A. E ora, parliamo parlo difficile. Tennis Club Genova, grande esperienza in Serie A sicuramente, c'è la ragazza del momento, questa russa, San Sonoro, che è la rivale che si allena con la Deborah Chiesa. Ma io non voglio fare tanti, voglio divindarci, mi accontenterai domenica del 2 a 2 sicuramente. Spero di vincere, chiaro, tutti speriamo di vincere. Siamo in casa, prima, un paresi dobbiamo portarlo a casa. Assolutamente. Venac K1. Ciao a tutti.